Continuano a protestare i 46 lavoratori, ormai ex dipendenti della PAP. Questa mattina la protesta si è spostata all'ingresso dell'ospedale Mazzini di Teramo, dove i lavoratori, con il supporto dei sindacati, hanno distribuito volantini ai cittadini. Abbiamo deciso non a caso di farlo presso i presidi ospedalieri, perché la ASLA, a nostro avviso, delle responsabilità ben precise, che vengono da lontano, dal 2014, l'abbiamo detto tante volte, e con forza lo vogliamo ribadire anche oggi, perché, soprattutto alla luce di come si sta svolgendo questo servizio in queste settimane, riteniamo che ci siano le condizioni per continuare a garantire un futuro anche alle persone attualmente rimaste a casa. Perché ci sono delle carenze? Non solo, a nostro avviso, ci sono delle carenze, ma c'è un utilizzo del personale alquanto improprio. Una vicenda che il manager della ASL, Roberto Fagnano, vede invece con chiarezza. È vero che in passato i lavoratori sono stati riassorbiti dalla ASL, ma essendo stato riappaltato l'intero servizio, su sollecitazione anche dell'autorità nazionale anticorruzione, l'azienda sanitaria ha un importante risparmio annuo. Il servizio oggi viene svolto per 1 milione e 50 mila euro all'anno, in meno rispetto allo scorso anno, con i quali l'azienda può raggiungere un equilibrio economico, sostenere i maggiori costi dei farmaci, dei farmaci per l'epatite C, degli farmaci antitumorali e tutti i maggiori costi che si sono rilevati su questi argomenti durante il corso dell'anno 2015. Ora, è del tutto evidente che non è possibile che si chieda all'azienda sanitaria di rivedere questa procedura d'appalto. È inimmaginabile. Questa è una procedura regolare che si è svolta sotto gli occhi dell'autorità nazionale anticorruzione, peraltro anche eventuali clausole sociali che non si aprono nel caso simile. È difficile che possano essere invocate qualora il prezzo non è determinato liberamente dall'azienda, ma da un soggetto eteronomo rispetto all'azienda. Per i lavoratori noi non possiamo prendere un impegno diretto. Certamente si potrà suggerire per il futuro quelle che saranno nuove attività dell'azienda. Parliamo per esempio dell'assistenza domiciliare, parliamo per esempio dell'apertura di uno o due RSA, la prima probabilmente è quella di Giulianova, che potranno in qualche modo riassorbire questa tipologia di lavoro.